Cora Ricevo questa telefonata di Benamino Vignola che mi dice che in primavera, cioè quasi un anno dopo, era maggio fai conto, avrebbero pubblicato questo libro e io non riuscì per lì a esultare, dissi a mia madre vado a fare una girata, presi la macchina, infilai l'autostrada del sole, la misi a tavoletta, cento all'ora perché era un maggiolino spompato, misi la musica a palla, c'era il hip hop, I'm a real wild child e cominciai a fare prato barberino, prato barberino, prato barberino, finché dopo un'ora e mezza di questa roba io ero riuscito a sfogare la mia felicità, io non ho più provato una felicità così pura e lo dico essendo stato felice tante volte nella vita. Sandro Veronesi sostiene che non avrebbe potuto fare nient'altro nella vita, scrivere, immaginare, inventare storie. Il primo libro lo pubblicò a sue spese, gli altri sono venuti, gli sono stati chiesti e Sandro li ha scritti in una sorta di flusso continuo in cui la cosa più importante era astrarsi, mettere le storie a servizio del lettore e farci viaggiare con lui in una fantasia così iperreale da risultare senza tempo. Io sono Malcom Pagani e questo è Dicono di Te, un podcast prodotto da Cora Media e Tender Stories. Sandro è vero che non hai fatto l'asilo? Sì, è vero, non ho fatto l'asilo. Dice mia madre che è stata lei, perché io non mi ricordo, però lei mi ha portato all'asilo uno o due giorni e poi mi vedeva perso, mi vedeva, in realtà forse era lei che non voleva separarsi da me, non lo so, però io non l'ho fatto l'asilo. E quindi quando ti sei ritrovato improvvisamente al campino, alle scuole elementari, che impatto è stato quello con gli altri? All'inizio, anche perché non so perché, io ero un anno avanti, per cui si vede che ci hanno messo un po' a accettarmi, sono entrato dopo una decina di giorni dall'inizio delle scuole, erano già tutti amici qua e là, però devo dire che io ero un po', ero più piccolo, ero un po' spaesato, per cui l'ingresso in scena diciamo che è simile a quello di Charles Bovary, solo che tutto va diverso, perché alla fine del primo giorno mi avevano già incluso, capito? Mi avevano già incluso e devo dire per una ragione, che mi sfugge, perché io non ero simpatico, non ero più piccolo e quindi era proprio perché ero cascato con questi ragazzi bambini, maschi ovviamente, perché a quell'età le femmine sono un altro mondo. Di Giannino e Luisa tu hai raccontato tanto, anche diciamo traslando, come sempre si fa in letteratura, nei tuoi libri, tuo fratello sostiene che fosse una famiglia retta e giusta con qualche picco di ingiustizia e che lui si divertiva molto ad ascoltare le discussioni tra te e tuo padre, in cui lui sapeva intimamente che tu avevi ragione, ma non gli dispiaceva l'idea che tuo padre non te la desse vinta. Ma secondo me ha fatto anche bene mio padre, diciamo ad alimentare il conflitto interno, perché da un lato ho capito quanto questo conflitto sia importante per crescere e conquistarsi le cose. Dall'altro ho anche capito quanto il conflitto permanente sia mortale, per cui bisogna anche saperlo gestire il conflitto, sapersi fermare, saper dimenticare e devo dire che siccome non l'ho gestito io, l'ha gestito lui il conflitto, l'ha gestito bene, perché è vero che noi abbiamo avuto dei conflitti con dei temi, non perché lui non accettava me o io non accettavo lui, ma su dei temi precisi. Però è anche vero che non c'è mai stato un allontanamento tra noi. Quindi questo conflitto era incluso nella, diciamo, educazione che mi veniva data da lui. Diverso era il comportamento di Giovanni, ma è ovvio perché il fratello minore non può fare quello che fa il fratello maggiore, deve fare l'altra cosa, sempre. E quindi se il fratello maggiore è ligio al dovere, tu trasgredisci. Se il fratello maggiore crea il conflitto col padre, il fratello minore sta a guardare. E comunque ne trae anche lui una lezione, che poi elaborerà come gli pare. Io non ricordo l'iti tra mio padre e mio fratello. Eppure sentivo mio fratello molto vicino a me. Ma non ho mai neanche pensato che dovesse in qualche modo darmi manforte, perché era una cosa mia quel conflitto. Forse sarei stato anche geloso se ne fosse entrato un mezzo. Perché era un modo di affinarmi le unghie. Siccome io non ero un tipo conflittuale e non ero uno competitivo, mentre mio fratello era un capo con i suoi, e quindi lui nel suo ambiente di amicizia esercitava una certa supremazia. E non aveva bisogno, evidentemente, di allenarsi in casa. Non credo che mio padre facesse un discorso pedagogico. Gli faceva girare i coglioni e lui li faceva girare a me. Però questa cosa non ha mai sconfinato fuori da una maieutica un po' rabbiosa qualche volta, ma che non ha mancato di darmi, e forse indirettamente di rimbalzo pure a Giovanni, un'educazione. Diciamo un'educazione al conflitto. Ma il conflitto è stato importante per te in letteratura? È possibile scrivere e inventare senza conflitto interiore? Guarda, io ho rinunciato a capire le cose di me, perché per capirle sto spendendo un sacco di soldi in psicoanalisi e finché non l'affronto lì o non riesco a venirne a capo lì, posso risponderti a questa domanda come a tutte, però so che sono risposte che possono anche andare bene. A volte uno se le studia anche belle, efficaci, ma io la verità è che non lo so, non lo so. Ed è la ragione per cui io sono così ancora emozionato a scrivere, perché scrivendo, mentre proprio batto sui tasti che vengono fuori le cose. E non ho il tempo mentre vengono fuori e le devo mettere per iscritto di chiedermi anche ma perché? Quindi su sta storia se deve esserci un conflitto interiore mio o tra i personaggi, non ti saprei dire, io ti so dire una cosa che è una parafrasi di una frase di Carmelo Bene, io dico che quando si soffre il direttante si mette a scrivere, il professionista smette di scrivere. È magnifico, certo. Io quando stavo male non scrivevo, cercavo di curarmi la ferita, ma non attraverso la scrittura perché sversi il sangue addosso al lettore e magari ci sono lettori che lo amano anche di essere coperti del tuo sangue, però preferisco questo sangue curarlo dove e nelle ragioni per cui viene versato. Se riesco invece a stare bene, quindi a controllare i conflitti della mia vita, allora scrivo. Perché è come vorrei che facesse un chirurgo, non vorrei mai essere operato da un chirurgo che è stato lasciato dalla moglie e che non gli fa vedere i bimbi e che gli sta portando via tutto e poi mi apre il petto a me. Preferisco che vada in ferie, capisci? E lo scrittore più o meno è un chirurgo. Carmelo Bena l'hai incontrato in un lontanissimo festival di Venezia e vi metteste a parlare di cinema. Che mente era? Un po' come si dice che la squadra di Bologna è felsinia e quella di Bergamo, l'Atalanta è orobica, si diceva che lui aveva questa intelligenza sul furea, ma purtroppo le definizioni, soprattutto quelle più viete e banali, non restituiscono mai l'integrità, l'interesse di una figura. Guarda, Carmelo Bene intanto mi ha guarito dalla cinefilia, che era pesante. Io ero un cinefilo pesante, il che significa che sprecavo la mia vita appresso al cinema. Vivevo delle esperienze e le dovevo sempre vere, relazionare a un film. Relegavo insomma la realtà a una specie di riproduzione del finto, che era il cinema. E questa cosa, Carmelo, quando la scoprì, quando mi vide e mi sentì ragionare in questo modo, mi disse, no, no, così non va. Quella è romaccia. Per lui i fratelli romani erano due delinquenti. No, non si può fare così. E quindi lì già mi ha guarito. In quell'intervista, perché io quell'intervista andai a farla a Otranto. E poi in quella edizione del Festival Venezia, che era quella del centenario dei Lumière, dava una pillola al giorno per evitare che nell'anno del centenario tutti esaltare il cinema. Allora dicevo, noi si comincia dalla buca che scava Carmelo, che odia il cinema, e poi con tutte le celebrazioni del caso si torna a pari. E quindi ogni puntata c'era questa bordata che io avevo estrapolato, pillole di 3-4 minuti. In una puntata di che cosa? Di questa trasmissione quotidiana che facevo per Telepiù, in diretta, alle 11 di sera, fuori dal Palazzo del Cinema, con gente che mi buttava dentro gli ospiti che neanche sapevano che finivano intervistati da me. Per cui era molto facile appoggiarsi sul centenario e ogni cosa condirla con questa enfasi retorica dei cent'anni del cinema, eccetera. Però partendo con ste bordate che gli dà da lui, il mood era molto diverso, era difendiamo il cinema dalla distruzione e quindi eravamo tutti più stimolati a ragionare. Allora, per risponderti alla domanda sull'intelligenza di Carmelo, facendo un servizio per la televisione, devi montare e quindi devi andare indietro e avanti, indietro e avanti e una certa cosa te la senti dire 50 volte, non una. Allora, la prima volta che dice una cosa, Carmelo, quasi sempre è una provocazione sul Furea. Però alla seconda, alla terza, alla quarta, perché stai facendo un lavoro che ti obbliga a risentirla, ti cominci a accorgere che c'ha ragione. Ma non solo c'ha ragione nella sostanza, c'ha ragione pure a formularla così. Però se io non fossi entrato in contatto con l'intelligenza di Carmelo Bene mi sarebbe mancato qualcosa, perché nessun altro mi avrebbe potuto dare quello che mi ha dato la frequentazione della sua intelligenza. Pensavo, Sandro, no? Tutte queste cose meravigliose, Deleuze, Guattari, il discorso di Bene che somiglia così tanto a quello di Effetto Notte di Truffaut e pensavo che di tutte queste cose su cui per oltre un ventennio, un trentennio ci si è accapigliati di sfide letterarie, risse, anatemi, oggi non si parla più di tutto questo. Non si parla più. Io credo che se va così doveva andare così. Cioè ci siamo un po' tutti, anche per ragioni anagrafiche, anche per ragioni nostalgiche, ci siamo impegnati perché sopravvivessero queste cose. Però è facile poi risponderti e dirti Verone e non sei Carmelo Bene. Lui teneva in piedi queste cose perché era Carmelo Bene. Lui era Moravia, lui era Calvino, ma te non sei loro. Quindi non puoi lamentarti che non c'è la discussione perché non sei in grado tu di alimentarla. E questa cosa la puoi dire di chiunque. Capito? Puoi dire a James Joyce, è te. Sei James Joyce, dove cazzo vai? Capito? A una persona che è lì con dei manoscritti imploranti, perché poi quando esce un libro o hai finito un libro, pure sei l'Ulisse, sei lì fragilissimo col culo scoperto, no? Chiunque può dire, oh, allora tanto vale accettarlo perché, come diceva Pier Giorgio Bellocchio, taci, il nemico non ti ascolta. Io sono venuto fuori da una generazione che ha avuto il tempo di incontrare questi grandi del Novecento, le ho incontrate tutti. E quindi sono anche molto orgoglioso di essere un po' più vecchio di tanti miei amici, perché quella un po' di più mi ha fatto conoscere personalmente queste persone. Tu la chiami anche fortuna questa? Sì. Dovessi rinascere, forse rinascerei qualche anno prima, ma non certo qualche anno dopo, perché ho visto che se nasci a metà degli anni Sessanta o alla fine degli anni Sessanta, sì, sei più giovane, ma quella gente non la incroci nemmeno, capito? Non la incroci, c'è poco da fare. E avere delle, diciamo, direttamente degli insegnamenti, delle dritte, diciamo, o degli esempi da questi grandi, mi ha anche dato un senso di rassegnazione, perché Carmelo Bene era rassegnato. Pasolini non ho fatto in tempo a conoscerlo, però vedo delle interviste televisive di Pasolini, in cui Pasolini dice, nell'inizio degli anni Settanta, io sono disperato, non ho alcuna speranza e non parlo, dice Pasolini, da individuo io, non ho nessuna speranza per l'umanità. E Moravia, che mi ha detto a me personalmente parlando, perché poi io avevo soggezione di Moravia, ma se avessi avuto un po' più di intraprendenza, avrei frequentato tutti i giorni, perché Moravia a pomeriggio era a disposizione di chi andava a casa sua. Io ci parlavo più che altro perché ero segretario di nuovi argomenti, di cui lui era direttore. Qualche volta, e molto rare volte sono andato a trovarlo, sempre con la scusa però della rivista, e c'era una polemica, ogni tanto gli arrivava addosso uno sbocco di fogna e Moravia se ne fregava, indifferente per l'appunto, olimpico. Però magari era uno spunto per chiacchierare di quel tema, di quei temi, e lui me lo disse, mi disse, gli scrittori ora, e parlava di scrittori come lui, quindi scrittori importanti, nella società, mi ricordo la mano ossuta, contano così. Zero. E vedevo l'occhio grigio di Moravia dentro lo zero che mi faceva con le dita, no? Quindi, sai, io li ho conosciuti, ho amato e ammirato quello che ancora succedeva, perché c'era fervore, però c'era anche una disperazione di chi aveva capito che questa roba moriva, finiva. E infatti è finita. Quindi è vero che forse se adesso ci fossero tutti lì con la baionetta infilata, Moravia, Calvino, Pasolini, forse ci sarebbe un po' più di vitalità e che noi non siamo questa gente qua. Però è anche vero che questa gente qua aveva già capito che non sarebbe durato, che questa roba se ne andavamo rì col ventesimo secolo, col novecento. E infatti se parliamo di questo, ormai sono passati 25 anni dalla fine del novecento. Noi parliamo del novecento, parliamo delle riviste, parliamo di tutte. Io l'ho conosciuto, io ho lavorato in una rivista letteraria di carta, l'ho fatta, ero il redattore, quindi la facevo io materialmente. Valiera a raccontare a un ragazzo che fa i blog adesso o i magazine, che cos'è? Fotocopiare un pezzo di Arbasino che era infotocopiabile, perché lui incollava i fogli da giornalismo, quindi con le, non so se hai fatto il tempo a vederli, con le righe, i numeri delle uno, due, tre, c'erano dei fogli dal giornalista per la macchina da scrivere, però poi dopo tagliando lui incollava, per cui non si riusciva a fotocopiarli, perché dovevi fare fotocopia così, poi dopo mettere un altro, e quello era lavoro letterario, perché stavi passando un pezzo di Arbasino, capito? Adesso anche se c'è un anziano che con un assistente ti manda il file, te non senti la differenza, ma la pasta dell'intellettuale la vedi anche da come ti consegna il pezzo scritto a macchina, corretta a mano, e questo è tutto il Novecento. Ho delle preziosissime però interviste fatte da Arbasino corrette a penna. Hai visto com'era, no? Sì, certo. Io me lo ricordo benissimo, ma non era quello il problema, l'arte del correggere a penna mi ha insegnato siciliano, ero un maestro, però rispetta il formato della carta, perché io ho una fotocopiatrice, uni a quattro, invece lui faceva dei papelli tipo on the road, capito? Certo. E quindi fotocopiare dovevi mettere lì, poi dovevi passare il pezzo che doveva essere composto, se sbagliavi a fotocopiare veniva fuori un casino. E tutta questa roba qua fa parte di ciò che è sparito, cioè non è solo sparita la parte diciamo analogica, materiale, manuale, insieme c'era anche quella roba lì, quei conflitti, quei dibattiti, quel fervore che è durato fino alla fine del Novecento e poi si è disperso nella nuova tecnologia e per questo ci sono solo polemiche via social, insulti, offese, shitstorm. Hai parlato di Moravia, secondo Carmier ieri era, nonostante tu fossi il redattore di nuovi argomenti, Moravia apprezzava la tua scrittura e ti aiutò in qualche modo a pubblicare su nuovi argomenti? No, diciamo che quello che apprezzò per primo la mia scrittura fu Enzo Siciliano che esercitava anche lui direttore di nuovi argomenti, esercitava più quotidianamente le funzioni di direttore e fu lui a chiamarmi a sostituire albinati in quella funzione che poi era delicata perché non potevi essere tonto, dovevi eseguire gli ordini ma dovevi anche selezionare, la prima selezione dei manoscritti in busta la facevo io. C'era gente che io condannavo alla non pubblicazione perché non li passavo a Enzo. E sentivi quella responsabilità? Certo che la sentivo, la sentivo e come? Però la dovevo prendere e questo mi ha fatto crescere molto, capito? C'è tutta una storia che ti racconta meglio lei di Melania Mazzucco perché arriva sto coso di Mazzucco, suo padre, che però dice questa si chiama come me ma non abbiamo nessuna parentela, è piuttosto brava, te la segnalo a Enzo. Io leggo questi due racconti pazzeschi, 25 anni, dico porca miseria, Enzo legge, bello, pum, muore Mazzucco. E non avevamo nessun riferimento. E quindi niente, io credendo alle sue parole, non c'entra nulla dalla sua famiglia, non ti sanno dire nulla perché questa si chiama come lui, ma non c'entra niente. E per un anno io brancolavo per feste, per cose, a chiedere se conoscevano questa Melania Mazzucco. E un giorno me la presentano così, lei faceva la sceneggiatrice, è Melania, ha detto Melania, Melania come? Dice Mazzucco, porca troia! E la pubblicammo, perché non potevamo pubblicarlo senza manco dirglielo no, la pubblicammo dopo un anno, e io ero così orgoglioso di aver visto che era brava e di averla passata Enzo, e Enzo subito si era accorto che era brava, che non riusciva a sopportare l'idea che non si trovasse questa perché era morto, l'omonimo, e invece era suo padre, che per non influenzare era amico di Enzo, aveva detto che era un caso di Pagani, dice sì vabbè Pagani. Beh tutto questo parla di Novecento effettivamente, è tutto questo, sì assolutamente, capisco quello che vuoi dire. Era la fine, era negli anni 90, la fine degli anni 80, l'inizio degli anni 90, però era Novecento perché era molto più vicino a come facevano le riviste, alle giubbe rosse all'inizio del secolo di come si fa adesso. Pasolini non l'hai conosciuto però hai dormito su un divano che in qualche modo… No, sul lettuccio, sul suo lettuccio, lui c'è nella revisione del mio tempo, lui fantastica, ancora poverissimo, di quando sarà ricco, come farà, come sarà la sua casa e descrive questa sua casa di quando sarà ricco, con questo lettuccio però semplice in legno, la coperta ricamata da donne sarde o calabresi, uno zigain appeso alla parete, poi è diventato ricco e queste cose lui se le prese, esattamente quelle. Poi è morto e queste cose sono passate alla sua erede Graziella Chiarcossi, sua cugina, che era però anche la moglie di un mio vero benefattore che è stato Vincenzo Cerami, naturalmente benefattrice pure lei, che per farmi venire a Roma e schiodarmi da questa, se no un'architettura che mi avrebbe inghiottito perché io mi ero laureato, mi hanno detto guarda noi abbiamo uno studio, se vuoi è vuoto, non era uno studio, era un appartamento a Monteverde Vecchio, appartamento vero, quindi con la stanza da letto, la stanza da pranzo, dove Graziella aveva messo tutte le cose di Pasolini, compreso il lettuccio, la coperta fatta da sarde o calabresi, lo zigain dalla parete, lo stereo su cui sentiva i dischi della Callas, i dischi della Callas con le dediche struggenti della Callas, i manoscritti che venivano mandati a Pasolini in lettura da Gadda o da Liliana Cavani, le sceneggiature e poi i libri tipo i racconti di Canterbury chiosati a mano o il Decameron chiosato a mano Pasolini, cioè io ho dormito per nove mesi in un museo, praticamente ho dormito molto poco perché la notte io consultavo tutte queste cose e quindi il mio rapporto con Pasolini è stato quello, naturalmente è lì che ho letto Pasolini. Hai scritto delle cose molto belle sul tuo rapporto con Cerami, mi ricordavo questa cosa delle lenzuola dipinte appunto disegnate dalle donne calabresi o meridionali a largo raggio, in quella stanza in linea teorica saresti potuto rimanere tutta la vita, quando te ne andassi Cerami ti disse non c'era fretta, non potevi stare quanto volevi, però cosa fu a spingerti fuori? Allora, bene il privilegio di avere dei benefattori, però non aveva senso, era ingiusto, quello era uno studio, Vincenzo c'aveva Matteo piccolo che gli passava tra le gambe, ora lascia fare che adesso posso dirti, a me non mi hanno mai dato noia ai bambini mentre lavoravo, però sapendo che lui scriveva con sto bimbetto che gli passava e aveva uno studio dove invece non poteva andare a scrivere perché c'ero io, insomma dopo un po' di tempo uno dice sì grazie, ma insomma, e infatti fu un downgrade pazzesco perché andai all'epoca si chiamava una camera immobiliata, in realtà era una stanza da un appartamento intero a Monteverde vecchio, pur bella perché era in via di Montserrato, però una stanza, però me la pagavo, no? Perché io poi dovevo anche affrontare delle condizioni di vita anche estreme alle quali mi ero mentalmente preparato, però finché poi la gente mi scodellava appartamento, le cose non dovevo spendere niente, non cominciavo nemmeno. Quindi erano diciamo due spinte combinate, una era che l'ospite dopo un po' puzza e io mi sentivo puzzare perché per quanto potessero essere ospitali generosi lui e Graziella però io gli stavo occupando un appartamento e dall'altra parte mi sentivo un po' troppo privilegiato perché insomma senza quello non avrei forse nemmeno cominciato, io veniva a Roma, dormivo nel divano letto delle case dei miei amici, dopodiché ho fatto la mia trafila e sono partito di lì, poi ho diviso casa con un pittore, amico che nel frattempo avevo cominciato a frequentare e via e via, che dovevo far così perché non è che potevo arrivare a Veronesi e gli si danno le case e gli si danno la roba dei casolini, quello è stato un privilegio enorme. Comunque tu ti eri laureato in architettura con lode e con dignità di stampa, avevi fatto il tuo servizio militare nei pompieri imparando che quando bisogna salvare un gattino su un albero prima di tutto è importante che il pompiere rimanga in vita, con una sorta di equilibrio. Andare a Roma era comunque un salto a vuoto, un'idea romantica ma anche disperata per usare le parole. Guarda, per me non è stato così perché io avevo degli amici, questi amici erano Edolardo Albinati, Marco Lodoli, non avevano ancora fatto nulla ma io sentivo che c'era la poesia dentro di loro che erano bravi, erano un battistrada, una lepre da rincorrere per me, erano un po' più grandi di me ma non avevo dubbi sul fatto che loro fossero degli amici. Ma ti chiamarono loro, ti dissero vieni? Vieni, se vengo mi accolgono anche lì, quando io sono riuscito a, riuscito, quando mi sono trovato questo dono e mi sono trasferito a Roma naturalmente appunto fu Albinati a farmi subentrare a lui che cominciando ad avere figli non poteva più permettersi questo volontariato perché di questo si trattava a nuovi argomenti, però non poteva neanche lasciare e dire ciao doveva trovare un'erede, così come quando toccò a me di andare via io dovetti fare tutti il casting per trovare chi mi prendeva il mio posto e lo trovai grazie a Bianca Maria Frabotta, alla quale chiesi qualche dritta sui studenti svegli e lei mi mandò da Simone Caltabellota che era giovanissimo, anche lui aveva 25 anni e poi ha dimostrato che valeva perché poi in fondo lui ha fatto un percorso più da editore che da scrittore, però nella letteratura ha dimostrato di saperci stare. E così ha fatto Albinati con me, sono stato accolto in un mondo di gente vera, di scrittori veri, in nuce, ma loro a loro volta frequentavano quelli più grandi, Cordelli, Zeichen, che mi trattavano da pari a pari. Io ero molto incoraggiato da questo. Comunque voglio dire, se tu pensi a Valentino Zeichen, pensi a un randaggio, non pensi a un posto fisso, pensi a un'esistenza errabonda, incerta. Però proprio per questo lui era una persona liberissima, se non gli andavi a geneo non c'erano discorsi. Lui parla con te e sta con te amabilmente, ti invita a mangiare nella sua baracca di spaghetti al pomodoro, oppure tu lo inviti a casa tua, che poi è casa di Cerami, a mangiare la rosticciana che gli piaceva, ma non è che lo fa con tutti. È Zeichen, è una persona nulla tenente e quindi come tale liberissima di dire no, non me ne frega niente, oppure sì e me ne frega. E non è perché gli dai un pasto, perché il pasto te lo dà anche lui a te. Come in Moretti di Bianca, quando scelgo, scelgo per sempre, non è che scelgo a caso, no? Esatto. Gli amici. Ora io mi sono disintossicato della cinefilia. Quindi non possiamo fare questi rifiuti. No, le battute, sì, è come se tu mi fumassi in faccia, ma io non me la ricordavo questa battuta. Però sì, insomma, per me è stato molto importante confrontarmi con queste persone più grandi, Enzo Siciliano, ok, Vincenzo Cerami, ok, quelli sono stati i propri amici e sono stati benefattori per me, perché hanno creduto e me mi hanno preso sul serio. Però Cordelli, Zeichen, questi più grandi, con i quali ho passato le serate parlando, ovviamente parli della Lazio, perché erano laziali, però parli anche di letteratura, parli di politica. Con Zeichen mi ci scornavo un po', perché lui, essendo un profugo fiumano, era virulentemente anticomunista. E Cordelli si diventiva molto quando mi vedeva duellare con Zeichen e poi mi diceva sai, devi capire, io capisco, però era divertente ed era importante, perché io ero un garzoncello che veniva da Prato e senza avere ancora dimostrato nulla, solo perché delle persone mi facevano credito, mi trovavo a passare le sere a chiacchierare con poeti e scrittori che io amavo e che pubblicavano da dieci anni e che rappresentavano, diciamo, per me l'orizzonte al quale tendevo. E questo mi dava molto morale, perché dicevo, vabbè, come scrittore non si sa, però almeno come persona si vede che fuori non mi ci buttano da questi posti. Non erano salotti, attenzione, non erano i salotti. Di salotti veri non ne ho frequentati, se non andando insieme a Enzo certe volte, ma non erano salotti. Era, non so, una cena da Enzo Golino, dal quale imparai una cosa. Cioè aveva una biblioteca con veramente diecimila volumi, però ogni tanto c'era un cartoncino, perché lui scriveva a chi l'aveva prestato quel libro. Bravo, bravissimo Enzo Golino. Così se lo ritrovava. E io infatti non l'ho fatto, pur avendo avuto questo suo esempio, non l'ho seguito. E alcuni dei libri più cari per me, che sono quelli che tu dai più volentieri da leggere agli altri, non ci sono, mi tocca ricomprarli. Perché vedi, già ai tempi dell'Espresso evidentemente si fregavano i libri del grande espresso, si rubavano i libri e poi non c'è niente di più matematico di questo. Non appena tu l'hai dato, un'ora dopo ti dimentica chi l'hai dato. E se quello a cui l'hai dato a sua volta si dimentica di averlo letto, il libro è perso per sempre. Il libro è perso per sempre, perché nessuno dei due sa dove sta sto libro. Poi c'è un tempo di latenza, magari passano sei mesi, quello dovrà leggere, no? Però con quel cartoncino lui stava tranquillo, perché poi alla fine... È una cosa stupenda. E io mi ricordo, questo fu forse la prima cena con scrittori e intellettuali di proprio un'altra età che io feci, perché mi ci portò Enzo. Ma la cosa che ricordo di più sono questi cartoncini che uscivano con il nome della persona a cui lui aveva prestato il libro. Senti, hai detto che con Cordelli e Zayken parlavi di calcio. Il tuo primo impatto col calcio è a cinque anni, suona 1500, con tuo padre che ti fa ascoltare... Quattro. Quattro anni. Nel 1964, quindi sì, più o meno. 63. Mi sa che lo scudetto di Bologna è 64. Sono abbastanza sicuro, perché la stagione è 63-64 e ovviamente nello spareggio con la grande Inter, primavera 64, maggio 64, ecco una cosa del genere, sì. Quindi secondo me tu avevi appena compiuto cinque anni, però non è molto importante. No, no, allora devo postdatare di un anno tutta la mia militanza della Juventus, credevo di essere stato operato alle tonsille sulla soglia dei cinque anni, invece evidentemente sono stato operato alle tonsille sulla soglia dei sei. E tutta l'epopea di Dallara, del Bologna, che tremare il mondo fa, di Fuffo Bernardini, eccetera, eccetera, Haller, e tuo padre ti fa ascoltare questa partita epica Bologna-Inter 2-0 su questa Fiat 1500 e tu in qualche modo capisci che c'è questa cosa del calcio che per te è stato importante. Molto. Due gatti si chiamavano Cini Signo e Leoncini. Sì, sì, come fai a sapere? Ci siamo preparati con noi qua. Sì, io avevo un giardino, una casetta col giardino dove andavano e venivano gatti, due dei quali erano bianchi e neri e io dopo questo primo scudetto vinto col Bologna, perché… I genitori erano bolognesi. Sì, sì, e mio padre non era un acceso tifoso, però lo spareggio lo sentì per radio, eravamo al mare e si stette lì al parcheggio a sentire questo spareggio e mi sentì vincitore di quello scudetto. Però poi nell'inverno ebbi questa conversione, questa metanoia, questa chiamata diretta, conseguente a un'operazione delle tonsille che mi fece stare zitto per due giorni. Non potevo parlare. E la prima cosa che ho detto dopo questi due giorni è stata Juventus, quando il prete venne lì in ospedale e dice questo giovanottino, ero lì con le figurine, i panini, ne attaccavo a perché squadra tifa e io che ero stato zitto due giorni mi ero convertito in quei due giorni di silenzio e dissi Juventus e da lì io poi ho fatto diventare gobbi tutti nella mia famiglia, mia madre, mio padre, tutti i gobbi, mio fratello ovviamente, perché quella lì ce l'ho messa di mio, l'entusiasmo e a me mi faceva sognare il calcio sentito per radio. È bella questa scena, cioè in piena estate, te e tuo padre, anche se era maggio o giugno, penso che... Era giugno, era giugno, no no. Secondo me è 4 giugno, una cosa del genere, questa vaga è una data epocale, comunque è bella l'idea della macchina con le porte aperte, eccetera, 31 maggio 64, vedi? Noi eravamo al mare, questo me lo ricordo, lì nel parcheggio, con le portiere aperte a sentire questa partita e io mi sono abituato così, a nutrire la mia passione così, era allo stesso tempo una passione per la Juventus, che era sorta, boh, in quel momento la Juventus non era forte, era forte l'Inter, di Herrera, era forte il Milan, di Rocco, mi piaceva questo nome che voleva dire gioventù, mi piacevano le maglie, boh, mi piaceva Sandro Salvatore, mediano, libero, con le figurine guarda in alto come se avesse qualche cosa, e poi tutto mi piaceva che si chiamasse Sandro, anche se io all'epoca ero rigorosamente Alessandro e poi piano piano mi sono fatto chiamare Sandro anche in omaggio a Sandro Salvatore, però non era solo la passione per la Juventus, io ho conosciuto tifosi di tante squadre che si interessano solo della loro squadra, e poi del resto non viene frega niente, gli dà quasi fastidio, che esista l'entusiasmo per altre squadre, invece no, io ero uno, lo sono tuttora, che per il calcio, ma anche per tutti gli sport, nutro un entusiasmo passivo nel guardarlo o addirittura nell'ascoltarlo per radio, divorante, che mio padre non capiva, perché mio padre era uno sportivo che lo fa lo sport, non riusciva a capire, quel giorno c'era lo spareggio e va bene, ma la domenica si va a sciare, non è che si sta a sentire la radio tutto il calcio minuto per minuto, capito? Lo sport era quello, e io ci andavo a sciare, però mi mancava la radiolina a transistor con i secondi tempi delle partite, perché io avevo una passione per quello, per le interruzioni quando c'era un gol, provavo emozione, e non la vedevo la partita, la immaginavo, sapevo un sacco di cose e non so come facessi a saperle, perché non c'era mica internet, sapevo un sacco di cose sui giocatori, dove erano nati, quanti anni avevano, quelle fissazioni… Ti piacevano l'uomo che non strinse la mano, Videlia Massera, dopo la vittoria sull'Olanda nel 78 al famigerato mondiale d'Argentino, Kempesh, ti piaceva… Sì, lì ero più grande e c'era la televisione. E c'era la tv, certo. Però io ricordo che il primo scudetto della Juventus che ho vinto è quello del 67-68, per una papera del portiere dell'Inter l'ultima giornata. Giuliano Sardi, Bantova. Sì, e la Juve che vinse la scudetto. Io di quella Juventus lì non ho visto niente. So a memoria la formazione e tutto quanto, ma Traspedini, che era l'ara sinistra, diciamo, titolare, come giocasse Traspedini non ne ho la più pallida idea, perché non ho mai visto giocare, Menichelli. Questi qua, Cinesinio del Sol, poi dopo Haller, quelli sì, perché quelli sono sconfinati un po' anche negli anni 70. E lì è cominciata un po' di più la televisione. La televisione che non ha mai, nel mio caso, scalzato la radio. La radio per me è comunque lo strumento primo. Tu leggi Storia delle Storie del Mondo, nove anni, tutto intero. D'Auror Vieto, sì. D'Auror Vieto, quindi miti greci, poi letto quattro volte Chiede la polvere di John Fante, poi letto i fratelli Karamazov che ci insegnano che l'amore è impegno e sofferenza, e letto Il vecchio il mare, primo libro in inglese a 17 anni. Credo di avercelo ancora. Quello lì? Proprio quella copia? Quella copia, credo di avercelo ancora. Dopo te la faccio vedere se ce l'ho ancora. E te lo ricordi i momenti inquiosi dopo aver letto di mettere la penna sul foglio? Sì, però scrivevo delle boiate. Me ne accorgevo anche perché come esercizio, diciamo, paragonavo quello che avevo scritto a quello che avevo letto. Che è quasi come fare quella all'interazione col cinema di cui mi parlavi all'inizio, è rischiosissimo. È rischioso. E infatti per me era un sogno, non era un'ambizione. Io mi addormentavo la notte, alle volte sognavo Riva nella Juve e non è mai successo. Eppure l'ho sempre amato Riva anche se ha detto no alla mia squadra. Non conosco nessuno che non abbasse Riva, a dire la verità. Lo possiamo dire proprio adesso che è morto, ma insomma. Oppure sognavo di fare lo scrittore. Perché mi sarebbe piaciuto che le persone provassero le stesse emozioni che provavo io leggendo i loro libri. Era un sogno, non era un'ambizione. E quindi alle volte mi mettevo lì a scrivere delle cose che mi sembravano belle, fino a che non le paragonavo con quelle che avevo letto. E allora lì capivo che eravamo parecchio lontani. Però non è che, diciamo, l'ambizione è maturata mentre studiavo altro, mentre studiavo architettura. E la mia formazione di autodidatta aveva dato, diciamo, origine a uno stile. Per cui non scimmiottavo più nessuno, ma fondendo insieme le influenze che ricevevo da una lettura febbrile, perché io prendevo il treno tutte le mattine alle sette e un quarto per andare a Firenze, all'università. E tra una cosa e l'altra, tra il treno e poi l'autobus, per andare, io avevo un'ora di lettura e un'altra ora di lettura al ritorno. Ma a volte stavo tutto il giorno a Firenze, perché non tornavo a pranzo a Prato. E quindi avevo ore di primavera da passare ai boboli o nei parchi o nei portici a leggere. Quindi leggevo tanto. Leggevo tanto e leggevo letteratura e andavo dietro a un filo di autodidatta che era un po' anche casuale, però erano sempre comunque grandi libri, grandi scrittori, classici, eccetera. E lì si cominciò a formare uno stile, cioè qualcosa che reclamava lettori. Perché prima scrivevo, ma poi non mi azzardavo a far leggere a nessuno. Ma il primo libro di poesia lo paghi tu? Sì. Come andò? All'epoca c'erano i librai che ogni tanto facevano anche gli editori, cioè pubblicavano libri o di storia locale, a Prato, cose così. E andare da questo libraio, che era quello dal quale tutti gli anni andavamo a comprare libri di scuola, e li chiesi se mi stampava questo libro, incoraggiato dal fatto di avere visto Albinati, Lodoli fare la stessa cosa a Roma. Quindi se lo facevano loro, non era umiliante, degradante pubblicare un libro di poesie, di poesie. Tutt'oggi, quando le persone mi chiedono consiglio, io dico non fate le autopubblicazioni, a meno che non siano poesia. Se è poesia, sì. Ma se avete un romanzo, andate da un editore vero, un editore che vi chiede dei soldi, no. Non tanto perché è immorale. Perché magari te ci dai questi soldi e lo fai volentieri, ma perché non è un editore, è uno stampatore. Dopodiché te pubblichi questo libro. Magari è pure bello, ma l'editore ci ha già guadagnato. Non lo distribuisce, non lo promuove, non è strutturato per questo. Però il tuo libro esce, c'è un ISBN, eccetera. Quando poi ne scrivi un altro e vai da un editore più grande, quello va a vedere i risultati del precedente e vede che hai venduto 18 copie. Allora è molto meglio andare da esordiente, perché un editore che deve pubblicare, un autore che ha venduto 18 copie ci pensa due volte, preferisce un esordiente, capito? Però la poesia no. La poesia ci si autopubblica, l'hanno fatto tutti. Anche i grandi hanno esordiente. 300 mila lire? 300 mila, sì. Tanti soldi? Sì, richiede a mio padre. A parte che lavorai come un micco per coprire quasi tutto, per l'Istat. Fu un lavoro bello. Dovevo censire tutte le strade del centro storico di Prato. Tutte, con i numeri civici, le cose, eccetera. Il centro storico di Prato non è molto grande, però l'avevo diviso in quadranti, ci stetti sei mesi, andavo a giro per il centro storico di Prato e prendevo appunti di tutto quello che c'era di anomalo, c'era un 37 bis, capito? E facevo civico per civico tutto il centro storico di Prato e secondo dei desiderata dell'Istat. Per cui con quei soldi e con i soldi di papà feci stampare questo libro e poi si fece una lettura. Insomma io feci a Prato quello che i miei amici facevano a Roma. Naturalmente a Roma aveva un altro peso, io però lo facevo a Prato. Però questo libretto fu, diciamo, la prima cosa che lesse enzo siciliano di me. Avevo 22 anni, 23, e gli piacque. Quindi il fatto stesso che fossi amico di ragazzi ai quali lui aveva già dato credito mi aiutò ad avere la sua attenzione. Quindi non posso dire che sia stato buttato quel denaro. Non solo mi ha dato la soddisfazione di vedere, all'epoca appunto scrivevo anche poesie, i miei versi stampati. Che anche se l'hai pagato te, però è bello vederlo sulla pagina, no? E dall'altra parte mi ha dato, c'era un po' di garbo e c'era appunto il primo stile un po' copiato, ma non del tutto. A quell'epoca uno molto giovane che aveva già pubblicato seriamente era Valerio Magrelli. E anche lui conosciuto nei miei viaggi a Roma tramite appunto Albinati, Lodori, eccetera. Alto grande appassionato di calcio. Sì. Lui, leggi quel libretto lì, si capisce che io stavo leggendo Magrelli. Ma Magrelli aveva pubblicato solo, ora se tratta Retini, non aveva pubblicato altro ancora, perché aveva 25 anni, 26. Però aveva uno stile. Aveva uno stile ben preciso, molto… aveva un'intelligenza diciamo della parola. E quindi non fu, diciamo, denaro buttato o velleità. Però avevi già ridotto Google per il teatro, per alcune cose fatte da tuo fratello, cioè ti eri già sperimentato, no? In qualche modo. Rispetto alla soddisfazione enorme di vedersi stampato per la prima volta il nome, effettivamente forse non vale neanche un premio letterario avuto dopo, no? Cioè quella cosa lì non torna più. No. Allora, diciamo, la prima è stata quella, vedere il mio nome e i miei versi in un libretto che però avevo pagato io. La seconda è stata quando mi hanno comunicato che mi avrebbero pubblicato un editore vero, Teoria, il mio primo libro. Quella è stata la grande felicità della mia vita. E tu con Iggy Pop in macchina non capisci più… C'era quel nastro lì in macchina, ero venuto su da Roma, ero a Prato a fare… passare il fine settimana. Arricevo questa telefonata di Benamino Vignola che mi dice che in primavera, cioè quasi un anno dopo, era maggio, fai conto, avrebbero pubblicato questo libro. E io non riuscì per lì a esultare, no? Dissi a mia madre vado a fare una girata. Presi la macchina, infilai l'autostrada del sole, la misi a tavoletta, cento all'ora perché era un maggiolino spompato, misi la musica a palla. C'era Iggy Pop, I'm a real wild child e cominciai a fare Prato-Barberino, 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 finché dopo un'ora e mezza di questa roba io ero riuscito a sfogare la mia felicità. Io non ho più provato una felicità così pura e lo dico essendo stato felice tante volte nella vita, non è che è stata una vita sventurata la mia, è stata una vita che mi ha dato tanti sbocchi di felicità, ma così mai. E io lì capì come può andarmi male la vita se quando mi dicono ti pubblico un libro sono così felice. Eh, va bene. Lì firmai il contratto e dissi adesso mi vanno bene tutte le stroncature, essere ignorato dalla critica, essere insultato da altri colleghi. Io firmo su tutta questa roba qua. Voglio che questi siano i miei problemi durante un po' nella vita. Non avere un lavoro fisso che ti dà una sicurezza economica e quindi non avere la possibilità di avere un mutuo per comprarsi la casa. Firmo. Perché quella felicità lì a me non me l'aveva data né la Juventus né l'amore. Quella felicità lì era superiore a tutto. Poi non l'ho più riprovata, eh, quella felicità lì. Nemmeno nella letteratura. Però è servita a farmi dire ok, sono pronto. Sono pronto a forme di sopravvivenza anche estreme. No? Perché te non sai come va. Può andarti male. Ma io questo faccio. L'ho decisi definitivamente in quel suo e giù. In quella gioia purissima che non ho mai più riprovato, anche se poi di soddisfazioni molto maggiori di questa, per fortuna non sono toccate e anche momenti di felicità privata più alti di quello. Però quella cosa lì è stata liberatoria perché io fin lì non pensavo veramente che mi sarebbe toccato anche a me. Vedevo che toccava a quelli a cui avevo dato credito era già toccato. Lodoli, Albinati, Magrelli e via. Però io sentivo che erano più bravi di me. E quindi non pensavo che mi sarebbe toccato anche a me. Il fatto che mi sia toccato anche a me è stato liberatorio. Fino a quel momento ero pronto a tornare a fare l'architetto senza il rimpianto di non averci provato. Perché quel rimpianto non volevo averlo. La provincia che cos'è per te? Per parafrasare il titolo del tuo primo romanzo è un treno allegro da prendere per lasciarsela alle spalle? Guarda, la provincia è un luogo orrendo. Tranne Prato. Nel senso che a Prato tutto ciò che vedo di orrendo nelle città di provincia non lo vedo più. Perché c'è la mia vita. Ed è una città di provincia. Anzi, parecchio di provincia a Prato. Però a Prato io non sento quel rancido, quella muffa che si sente nelle città di provincia dove vai e passi una sera o due. Magari sono belle, sono città molto belle e la bellezza artistica ti svia. Dal pensiero di starci per sempre. Sì, poi vai la sera dopo l'incontro a bere un bicchiere in enoteca, che sia Pordenone, che sia Matera, che sia… Dici, ma io qua non ci vivrei mai. E non lo dico da romano, lo dico da uno che vive in una città anche più brutta di Velle, no? E quindi è molto strano. Ricordo una definizione di Enrico Filippini che diceva che la provincia ferve di inconsapevolezza. Bello. È molto bella e me ne ero sempre fatto forte perché dicevo io vengo da qui fervo di inconsapevolezza anch'io. E in parte poi è vero. Però non riesco a trovarci nulla di buono nella vita di provincia. Perché l'Italia poi non è la Francia. Tra una città di provincia e l'altra non è che c'è 100 chilometri di campagna e mucche. C'è una piastra di frazioni, piccole cittadine, outlet, supermercati, silos, ininterrotta. Per cui questa provincia si rancidisce man mano che si produce uguale a se stessa, anche se però se te vai 15 chilometri più in là sei straniero. Non ti riconoscono come membro della comunità. Eppure non c'è mai stata discontinuità tra dove vieni te e dove sei andato. Questo lo trovo una cosa orrenda. A vederla ancora oggi. Però quando sono a Prato, ancora oggi, e prima quando ci vivevo, io questa roba non la sento. Mi sento perfettamente a mio agio. Quindi c'è proprio una grande differenza tra come la concepisco e come la vivo. Sicuramente se domani dovessi andare a vivere a Varese, sono sicuro che mi ambienterei a vivere a Varese, la cosa difficile da accettare è di andare a vivere in una provincia che non sia Prato, capito? Dove non sono già stato? Bene. Perché non vedo altre possibilità. Mi possono piacere le ipotesi di città di mare, di provincia, tipo la Spezia, perché questa piastra di antropizzazione scadente, almeno per un lato, per un lato, piombino. Cioè città di provincia veramente malefiche, ma c'è l'elba lì, c'è Baratti, capito? È un'altra cosa rispetto a Prato, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio. E io invece lì mi sento a casa e non mi sento affatto. Io non sono venuto via dalla provincia perché non ne potevo più della provincia. Non era la vita di provincia che mi dava fastidio. Anche perché Firenze non era una città di provincia, però quel fervore che io avevo di inconsapevolezza non trovava soddisfazione nemmeno a Firenze, l'ha trovata a Roma, perché Roma era veramente una città universale. Firenze campava del proprio passato, gli scrittori a Firenze quasi non c'erano. Senti, pretendere che chi ami rispetti sempre le ragioni che ti hanno fatto innamorare è illusorio, hai detto tu. Questo vale, immagino, per la scrittura, per l'amore, per l'amicizia. Le cose cambiano in continuazione. Qual è il segreto per non essere investiti da questa realtà che è stringente e anche dolorosa? Ma io non credo che si possa non essere investiti. Io sono sempre stato investito da questo dolore. Lo do per scontato. Lo do per scontato. Fa parte del contratto che firmi quando vieni al mondo. Prima ancora del contratto che firmi quando dici voglio fare lo scrittore. Soffrirai. È assurdo pensare che non soffrirai. Poi ci sono circostanze parecchio ingiuste che portano delle persone a soffrire molto di più di altri. Però anche lì la firma c'è. Te sei venuto al mondo. Dici ma io non l'ho chiesto. Però ci sei. Soffrire si soffre. Il fatto è che si deve avere una soglia di intelligenza del dolore molto alta. Per allenarsi a sopportare l'idea del dolore, non il dolore, ma l'idea che ti tocca soffrire. Per questo dicevo prima che, per esempio, una delle cose che ho fatto è stato dire quando soffro, per delle ragioni o fisiche o morali, io non scrivo. Smetto di scrivere. Ho troppa considerazione dello scrivere. Mi è costato troppi sogni, troppo tempo arrivare a fare lo scrittore per riversarci dentro il mio dolore. Quello specifico. Io ci devo mettere il dolore. Perché una frase che ho già detto, quindi la ripeto, mi sta fatto notare che è una bella frase e non me ne ero accorto. Però siccome mi hanno detto che è una bella frase, la ridico. Il dolore è di tutti, come gli accendini. Se te trovi un accendino, non è che vai a cercare, oh di chi è questo accendino? Se lo pigli. Perché poi la prossima volta questo accendino se lo piglierà un altro. Non è come un testo della Mazzucco, certo. No, non vai a cercare il proprietario dell'accendino. E lo stesso vale per il dolore. Il dolore tuo è anche il mio. E basta poco perché lo diventi. Io mi ricordo che quando ci siamo parlati qui, anni fa, tu stavi male. Mi raccontasti qualcosa che mi fece capire che tu eri nel dolore. Che memoria, è vero? Beh, che memoria. È quello che ti sto dicendo. Quel tuo dolore, del quale non ricordo, ricordo che era una cosa amorosa, ma non ricordo i meccanismi che pure mi raccontasti. E che comunque sono universali. Esatto. Però mi toccò. Perché dissi, vedi, quello è il mio dolore. Non è solo suo. Perché quando sei andato lì è rimasto l'accendino, capito? E quindi quando io scrivo, io scrivo del dolore, non del mio preciso. E quando il mio preciso è forte, mi impedisce di vedere quello degli altri. Mi impedisce di vedere il dolore di tutti. E quindi preferisco non scrivere. Perché se devo scrivere del mio dolore, sento di tradire il potenziale della poesia o della letteratura, di investire tutti. Tu hai detto che Vittorio Goccia entra sempre. Lui dice una cosa fantastica sul successo. Il successo è quella cosa, adesso vado a memoria, è quella cosa maleodorante per cui tende a ingannare gli uomini. Il successo è qualcosa che altera la percezione che gli altri hanno di te. Ti è successa questa cosa? Guarda, io ho portato sempre con me, anche da prima, di conoscerlo, di toccarlo con mano il successo, due definizioni di successo che sono, pensavo fossero dei talismani, ma invece in realtà sono proprio degli antidoti alla possibilità di cadere in quella buca lì. Una è di Grazia Kerchi che dice che il successo è un participio. E l'altra è Pasolini che dice che il successo è l'altra faccia della medaglia della persecuzione. Funziona esattamente come la persecuzione. Cioè, dopo un po' te vieni perseguitato, perché vieni perseguitato? Non c'è più neanche una ragione d'origine. Questo lo perseguitiamo. E il successo è la stessa cosa. Hai successo perché hai successo, non perché in quel particolare momento lo stai meritando. Sei quello che ha successo. Allora, il combinato di queste due definizioni, participio e persecuzione, mi ha sempre tenuto piuttosto freddo sul dare importanza al successo, nel senso intimo. Cioè, appunto, la percezione che gli altri hanno di me. In particolare, diversamente da Tony Servillo, io non ci metto il corpo. La gente non approva la mia faccia. Non approva il mio modo di parlare, la mia voce, le espressioni del mio viso. Approva e riconosce il successo alle parole scritte. E quindi c'è già più di stanco. Ed è più facile fare il ragionamento che faccio io. Cioè, credere fermamente in quello che dice Grazia Kerki e in quello che dice Pasolini. Un campione di basket americano che guadagna a 22 anni 30 milioni, che non può uscire senza essere… E quel successo lì è più difficile da gestire. Perché appunto ti può mettere in crisi o ti abbandoni e allora fai una vita che non è più la tua. Oppure ti chiedi, ma come? Perché metto la palla dentro? Sono percepito così. E se non la metto più dentro? Che succede? Che è poi la nevrosi dell'attore, la nevrosi della persona. E se domani non piaccio più? Che succede? Trovi delle donne bellissime. Io ho conosciute delle attrici, no? Perché poi mio fratello, il mondo del cinema, e più belle sono. E più il complimento che devi fargli è sei bella. Perché sono insicure della propria bellezza. Le più belle donne che io ho conosciuto erano insicure della propria bellezza. E tu non gli dovevi dire come sei intelligente, come sei… Che sono intelligente lo so. Mica la perdo l'intelligenza, ma la bellezza sì. E se qualcuno mi dice che sono bella, io lo apprezzo. Perché è la percezione che hanno gli altri di te. Un'attrice poi sa che c'è di mezzo. Il personaggio che hai fatto, il direttore della fotografia che ti ha fotografato. Per cui, quando non hai tutto questo, anche la più bella delle donne è insicura. Uno scrittore può dargli tutto il successo di questo mondo, ma questo pericolo non lo corre. Capito? Può correre il pericolo di scrivere da un certo momento un po' i libri che non piacciono più. Ma molto spesso o c'è una precisa volontà di rinunciare al successo. E dici, basta, ho capito che cosa vi garba e io non ve lo do più. Ci sono scrittori che hanno deciso di andare via dal proprio successo perché c'era altrove qualcosa da cercare che però non interessava al loro pubblico. Oppure, più delle volte, perché scrivono libri peggiori. E quindi quello che loro avevano da dare di medio l'hanno dato e piano piano i lettori, o anche in fretta, se ne accorgono e si rivolgono altrove. Ti farebbe disperare l'idea di aver dato il meglio? Ma io penso di aver dato il meglio. Io penso che non posso fare meglio in futuro. È già grassa quello che ho fatto. Io scrivo, continuo a scrivere, ma non credo di poter far meglio quello che ho fatto. Perché sono 35 anni che scrivo. Einstein diceva che il periodo di brillantezza di un'intelligenza sono dieci anni e sono i dieci anni entro i quaranta. Dopo diventi molto buono per dirigere l'intelligenza degli altri. E lo diceva Einstein. Cioè, lui da una certa età in poi si è sentito buono per dirigere dipartimenti, per dirigere progetti, ma l'intelligenza viva di cui c'era bisogno nel mondo non era più la sua. Ed era una persona intelligente a dire una cosa del genere. Credo che avesse ragione. Credo che all'inizio inizio magari no. Però il meglio che uno ha da dare lo dà in un decennio nel quale, se ha fortuna, questo viene riconosciuto. Se non ce l'ha, no. Ma dopo, per quanto curioso sia di fare esperienze nuove, per quanto versatile, per quanto entusiasmo possa avere, c'è il declino. C'è poco da fare. Poi, che il pubblico, tanto di un attore quanto di uno scrittore, possa esserti fedele anche nel declino, questo è un miracolo che può succedere. È successo e meno male. Però se mi chiedi nelle ambizioni che ho per il mio futuro, anche per la mia vecchiaia, ho ambizioni di lettore. Tante cose che non ho letto voglio leggere. Se mi dicono che io muoio fra due anni, io non scrivo, io leggo. Perché? Cosa posso scrivere di meglio di quello che ho già scritto? Calvino, non lo sono, non lo divento, ma posso leggere cose che non ho letto, che stanno lì. È il mio mondo. Se io non tocco quelle cose, mi mancheranno. Certo, siccome non te lo dicono che muori tra due anni, anche se poi muori tra due anni, non lo fai. Dimetterti a leggere e basta. Ma se avessi la certezza di morire in un tempo ragionevolmente breve, la scrittura direi, ragazzi, io ho dato. Adesso però c'è da recuperare quello che non ho letto, perché so esattamente cosa non ho letto e devo leggere. E poi c'è anche quello che non ho letto e non so di non aver letto, che qualcuno mi dice, ma leggi quello? E lo leggo. Per me è quello che è più importante. Perché, ripeto, sono più di 35 anni che sono a giro. Se qualcuno mi dà un calcio in culo e mi dice, scansati, non gli puoi mica dire che è una persona ingiusta. È uno che vuole un po' di spazio. E tu ce l'hai avuto per 35 anni questo spazio. Magari questa persona non ce l'ha e te la pide con te. È ingiusto, ma è normale, secondo me. Dicono di te è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e Tender Stories. Io sono Malcom Pagani. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. Le registrazioni in presa diretta sono di Lucrezia Marcelli. Il producer è Alex Peverengo. Grazie a tutti.